Ciao a tutti ragazzi, siamo in MyPersonalPizza e abbiamo deciso di partecipare alla Dakota Challenge. In due minuti cercheremo di truccarci e di farci bellissimi per la serata, con queste cose qui. Bene, ci piace iniziare il nostro make-up utilizzando dello yogurt come base. Mi raccomando, spargetelo in maniera uniforme in modo che la pelle non vi si secchi e che tutto il trucco vi sia tacchi bene, soprattutto anche per coprire la barba eventuale. Non dimenticatevi le metterò anche sulla fronte. Dopodiché useremo della farina come fondotinta per attoprire le perfezioni e l'impurità del nostro bellissimo viso. A me piace utilizzare questo pennello a setole grosse perché credo che la sparga in maniera più uniforme e di un effetto più, diciamo, invisibile. Altrimenti, se non avete un pennello fatto apposta, potete utilizzare le mani come sta facendo Simone. Successivamente, sulle mie guance, metterò del ketchup per risaltare il fatto che sono sempre felice. Io invece prenderò un uovo e lo utilizzerò per mettermelo sul contorno occhi in modo che faccia da collante. Vedete che sto facendo adesso? Anche io userò l'uovo. Lo userò come gel per tirare su i miei bellissimi capelli e renderli belli voluminosi. Io invece utilizzerò delle praline da mettere appunto sopra il collante in modo da dare quel bellissimo effetto gattino, micorno, ricolmo, virgo, balleni. Se invece dovete avere un effetto più dark, possiamo mettere del cacao sugli occhi. Dopodiché potete prendere della salsa rosa e spargermelo bene sulle unghie. Questo vi aiuterà a risaltare gli occhi, soprattutto se ce ne avete di quel tipico color salmone. Tornando invece all'aspetto dark, possiamo mettere in risalto anche il bellissimo monocidio. In questo modo. Io adesso prenderò la banana e la utilizzerò per riempire il volume del mio viso. In questo modo. Come qua. Come qua. Sei bellissimo. Anche tu Lorenzo. Bravo. E voi, cosa sapete fare in due minuti? Fateci sapere come il video risposta. In particolare ci teniamo a passare la sfida dominando altri 5 youtubers. Daggermind, Chris Pergola, Mac and Afro, Deva Zardos e Do You Speak Science. Ciao a tutti e buona pizza! Now put your hands up.